Arriva per la prima volta al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il grande Christian De Sica con Cinecittà, il tributo di uno degli attori italiani più amati agli studios più famosi d'Europa. La meravigliosa epopea della magia di Cinecittà, che ha ispirato i grandi maestri del cinema come Rossellini e Scorsese, Fellini e Coppola, sarà portata in scena da De Sica sul massimo avellinese venerdì alle 21 in replica domenica alle 18.30. E' in programma poi anche un ulteriore spettacolo fuori abbonamento sabato alle 21. Cinecittà è una parola magica che riporta ad un mondo fantastico, ad un secolo di storia del cinema, scritta da artisti geniali ma costruita anche sul lavoro di migliaia di comparse e di eccellenti maestranze. Una favola accompagnata da musiche indimenticabili, da parole e canzoni che fanno parte del nostro quotidiano. Una storia che appartiene alla cultura italiana ma che ha ispirato tutto il cinema internazionale. Cinecittà è il racconto di un rapporto profondo tra la famiglia di Christian De Sica, Il padre Vittorio, uno dei più grandi registi e attori del cinema italiano, è la madre Maria Mercader con la città del cinema, costruito spontaneamente attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, monologhi poetici sulle figure nascoste che rimangono sempre dietro le quinde. Cinecittà è il racconto di un rapporto profondo tra la famiglia di Christian De Sica e il padre Vittorio, uno dei più grandi registi e attori del cinema italiano, e la madre Maria Mercader con la città del cinema, costruito spontaneamente attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, monologhi poetici sulle figure nascoste che rimangono sempre dietro le quinte, divertenti gag su provini, sugli attori smemorati, sul doppiaggio improvvisato, ma anche canzoni evergreen enfatizzate dalle abili doti di Christian De Sica. Lo spettacolo rientra nella rassegna Grande Teatro organizzata dal Carlo Gesualdo in sinergia con il Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo. Per assistere allo spettacolo Cinecittà di Christian De Sica è possibile acquistare i biglietti ai botteghini aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.